Nel grosso una sconfitta che fa male, il presidente Bartolino ha parlato anche di arbitraggio scandaloso, c'è questo e c'è forse anche dell'altro? Sì, sì, quando si perde così chiaramente sono tante le componenti che non sono andate per il verso giusto, tra cui anche un arbitraggio che è stato discutibile sotto alcuni aspetti. E con una squadra che ancora una volta non ha saputo gestire situazioni di vantaggio non è la prima volta che accade? No, infatti questo è secondo me il problema più grande e più grave di questa squadra, che non riesce purtroppo in campo a difendere il vantaggio, comunque a continuare soprattutto con il vantaggio che eravamo uno in più, sapevamo che la Reganatese davanti poteva crearci dei problemi, soprattutto su calci piazzato, abbiamo preso gol su calci piazzato e su due rigori. Teme un contraccolpo psicologico per quanto accaduto in vista delle prossime partite? Non se non per questa sera o massimo domani, non sono uno che si abbatte su queste sconfitte e non voglio che la squadra si abbatte per quello che è successo, purtroppo il calcio è così, abbiamo la fortuna di poter ogni settimana migliorare e recuperare il terreno perduto, quindi non sono queste le battute psicologiche che una squadra deve subire, però è chiaro che dobbiamo fare un esame di coscienza a tutti e capire e recuperare quello che stiamo perdendo.